un bel ritrovato carissimi amici di auto occasioni oggi mi trovo per voi da motostyle sono qui con enrico foradini ciao ben ritrovato ciao ben ritrovata con il sole presente assolutamente finalmente possiamo dire la stagione è arrivata il sole che ci consente naturalmente di andare in moto nei nostri weekend e nelle nostre vacanze enrico stiamo a rossa diamo l'indirizzo corso moncenisio 48 4.000 metri quadri abbiamo tutti i nostri dipendenti a vostra disposizione oggi parliamo di suzuki e oggi parliamo di suzuki e lo faremo con una new entry una new entry si perché dice siccome ci dicevano che la concessionaria ormai è 37 anni che che c'è ed è vero che io sono vecchio ed è vero ben consolidata questo vuol dire per quello che lo dico abbiamo preso veramente un ragazzo giovane si chiama alberto sarà il nostro venditore suzuki e quindi andiamo avanti a presentare il marchio di cui siamo ufficiali venditori e concessionari ufficiali suzuki quindi anche per l'assistenza quindi garanzie assistenza d'officina tutto quello che riguarda il post si suzuki siamo veramente i numeri uno allora lasciamo la parola ad alberto amici di motostyle eccoci qui in casa suzuki ecco voi le promozioni per questo mese disponibili fino al 30 settembre qui davanti noi abbiamo il busto a 1050 die in promozione a 1500 euro pronta consegna in questo favoloso colori giallo e il 1050 se la versione un pochino più stradale stessa stessa cosa in pronta consegna in questa bellissima anche colorazione nera 1500 euro di sconto per la die 1000 euro di sconto invece sul listino sempre per la per le se continuiamo con la new entry per quanto riguarda le tourer in casa suzuki in questo caso in questa bellissima colorazione bianca il bustro 650 saliamo in sella alla gamma scooter di gamma suzuki ecco qua il burman 400 questo bellissimo in questa bellissima colorazione grigia chilometro zero in pronta consegna a 6.250 euro ottimo per per la città e anche per i viaggi fuori porta continuando con le promozioni suzuki ecco voi il gsxs 1000 gt in questa bellissima colorazione blu suzuki la propone già da originale con le borse laterali per questo mese fino al 30 settembre come ripetevo prima 1500 euro di sconto anche su questa ed eccoci qui con il gsxs 1000 il millone di casa suzuki millone come la promozione che abbiamo per questo modello fino al 30 settembre solo per voi top di gamma per quanto riguarda motore per quanto riguarda ciclistica e sospensioni per questa 1000 gx suzuki su questo modello ha esagerato totalmente schermo tft da 6,5 pollici sospensioni semi attive regolabili elettronicamente sia nell'anteriore che nel posteriore 152 cavalli di pura potenza in tre versioni il base il tourer e lo sport stesse caratteristiche hanno entrambi le versioni solo che uno si differenzia che allo scarico a krapovic la sport e la tourer al cavalletto centrale borse laterali paramani e manopole riscaldate se le comfort oltre che per il tourer abbiamo al parabrezza touring quindi questo qui mentre per lo sport abbiamo il parabrezza basso fumè per chi non ha paura di usarla sia in strada che in fuoristrada ecco a voi il vostro moto 100 die questo in particolare il die per chi osa soprattutto in fuoristrada cerchi anteriore da 21 copertoni semi tassellati per ogni evenienza schermo tft qui shifter per chi ha la patente 2 per i giovanoti ecco voi la 8s la 8r lo stesso modello si basa sullo stesso telaio sullo stesso motore 84 cavalli depotenziabile per a2 schermo tft da 5 pollici traction control su tre livelli quattro mappature e qui shifter una chicca per quanto riguarda il vstrom 650 ecco voi il kit explorer composto da borse laterali paramani parabrezza regolabile di serie e paratelaio del motore katana mille ecco a voi la sciabola di casa suzuki per chi non ha male elettronica o non troppo esagerata eccola qua a voi in questo favoloso crigio in chilometro zero è pronta consegna solo per voi 152 cavalli tutto questo a soli 12.690 siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata avete visto davvero tutte le suzuki presenti qui da motostyle con alberto ricordiamo che è possibile effettuare il test drive esatto in casa suzuki abbiamo 10 test drive in prova il sabato 13 luglio vi aspettiamo numerosi con le nuove arrivate in casa suzuki la 8r l'8s la gx qua dietro appena arrivata in casa suzuki e al vstrom 800 grazie alberto naturalmente ricordiamo enrico che è possibile acquistarle in tutte le maniere ovvero in contanti e anche grazie ai finanziamenti finanziamenti si abbiamo appunto cinque finanziarie a nostra disposizione dal metamoto al prima rata dopo sei mesi alla formula no stress io vi ringrazio per averci seguito ma ricordiamo ancora l'indirizzo siamo qua in corso monceniso 48 a rosta alla prossima puntata ciao ciao a tutti